Potrebbe aprirsi un nuovo spiraio per Birba, Olivia e i suoi tre gattini. Adesso, infatti, anche la Asla Toscana Sud-Est è intervenuta sulla questione degli animali tenuti in gabbia da ormai tre mesi, ossia dopo essere entrati in contatto con il micio morto di Lissavirus, un patogeno della stessa famiglia del virus della rabbia. La proprietaria del cane e dei gatti più volte ha sollecitato le istituzioni a risolvere la situazione, chiedendo a più riprese che gli animali possano trascorrere il resto della quarantena in sicurezza nella loro famiglia. Dopo l'uscita di Ghinelli, adesso è l'azienda sanitaria a prendere una posizione. La Asla Toscana Sud-Est, scrivo in una nota, condivide le preoccupazioni della proprietaria. Il centro di referenza nazionale, l'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale delle Venezie, all'inizio di agosto aveva sconsigliato la riconsegna degli animali alla proprietaria. Tuttavia, l'azienda sanitaria, nei giorni scorsi, ha nuovamente chiesto un parere in merito al centro, in forza delle risultanze positive dell'osservazione degli animali in questione, ad oltre tre mesi dal possibile contagio del piano di sorveglianza straordinario effettuato dall'Asla su cani e colonie feline del comune Aretino, che sino ad oggi ha evidenziato una situazione epidemiologica compatibile con la richiesta della proprietaria e del fatto che la stessa ha approntato presso il proprio giardino un recinto dove accogliere gli animali in modo da evitare contatti con altri animali o persone. Chiaramente, conclude l'Asla, il personale veterinario dell'azienda sanitaria garantirebbe la necessaria sorveglianza periodica degli animali per verificare le condizioni di salute degli stessi e l'appropriatezza delle modalità di detenzione degli animali.